salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi torniamo a parlare di calcio mercato e parliamo del quarto acquisto del benevento hamasa e il kawakibi difensore italo marocchino classe 98 arriva a titolo definitivo per 450 mila euro dal pordenone contratto triennale per lui conosciamolo meglio ripercorrendo la sua carriera cresce nel settore giovanile del bologna ma non giocherà mai in prima squadra nel 2018 viene mandato in prestito alla pistogliese in serie c dove colleziona 25 presenze 3 gol e 5 assist nel 2019 viene mandato ad inizio stagione in prestito in serie c a piacenza dove colleziona 8 presenze e poi a gennaio viene mandato in prestito alla pianese sempre in serie c dove colleziona 7 presenze per un totale di 15 presenze in serie c nel 2019 nel 2020 viene acquistato titolo definitivo dal sottirol in serie c dove colleziona 30 presenze 2 gol e 7 assist nella stagione successiva viene acquistato dal pordenone in serie b dove colleziona 25 presenze una rete e un assist come caratteristiche tecniche un giocatore che gioca come terzino destro ma poi giocare anche come difensore centrale e terzino sinistro quindi ricopre tutti e tre i ruoli di difesa che dire alla fine il mercato che sta facendo il benevento è un mercato che punta sui giovani senza nomi di grido senza nomi importanti perché si sa se non ci sono uscite importanti non ci saranno entrati importanti e speriamo che questi giovani possano dare al benevento qualcosa di importante che dire ragazzi con la pioggia e nel vento sempre forza benevento ciao ragazzi ci vediamo in un prossimo video